Le minacce e violenze, sia fisiche che psicologiche, che avrebbe subito nel tempo l'ex compagna l'avevano portata a denunciare. Dopo la denuncia, il GIP, su richiesta della Procura della Repubblica di Gela, aveva applicato all'uomo il divieto di avvicinamento e luoghi frequentati dalla donna. Una misura però violata dallo stesso, che avrebbe messo in pericolo non solo l'incolumità della vittima, appiccando il fuoco al portone in ingresso e all'androne della sua abitazione, ma anche di tutti i soggetti dimoranti nello stabile della stessa. Su richiesta della Procura della Repubblica di Gela, la Polizia di Stato, nel corso delle indagini preliminari, ha eseguito una misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico in sostituzione del divieto di avvicinamento e luoghi frequentati dalla vittima, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale. Le indagini sono state condotte dal commissariato di pubblica sicurezza di Gela, coordinate dalla Procura della Repubblica, nei confronti dell'uomo per maltrattamenti contro familiari e conviventi, danneggiamento seguito da incendio e violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.